Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Sono Federico Ronchetti e sono uno studente del corso di laurea magistrale in fisica all'Insubria. La mia esperienza all'Insubria è stata ed è ancora l'insegno del divertimento, dalle pause caffè con i compagni, alle sfide lanciate con i professori, dalle lezioni frontali alle esperienze di laboratorio. Diciamo che non mi sono mai annoiata in università. È vero, non tutti i corsi possono sempre piacere o appassionare, ma all'Insubria ci si sente sicuramente coinvolti. Dato le dimensioni dell'Ateneo, infatti, vi è sempre la disponibilità dei professori e dei ricercatori al dialogo, ad esempio per parlare di un'idea o di un progetto, oppure semplicemente per avere una spiegazione in più su un argomento che ci ha particolarmente stimolato, oppure come per me, divertito.